eccoci eccoci qui siamo su nobody wants to die oddio cos'è questo rumoretto ah mi stanno telefonando ok allora era caduto quel strano zeppening e dobbiamo provare ma da dove si va qua ok bene anzi male queste qua cosa sono tutte le le celle piene di eglio pare di sì allora scendiamo da questa scala un bel disastro allora dove andare la no qua direi proprio di no 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 la diciamo che qua ci dovrebbe essere un caldo incredibile allora apri ruota cosa me ne faccio di un disco the moonberry mccallister va bene è questo leggi il nemico della prosperità ok qui niente qua niente cut c'è un po di fumo non è che succede vediamo oddio post immenso allora non credo qua però diamo un occhiato allo stesso scandalosamente perfetto asta di corpi ogni venerdì che storia è la aleteia 111 FM autorizzazione governativa approvata cittadino consapevole società consapevole va bene infatti quando siamo tutti consapevoli era interessante però là dentro non non Help me identify Kovalev. I bet his corpse will open right up if we ask it all nice like. Allora, Kovalev è tra le vittime. Intanto volevo vedere qua cosa cambia. Che di qua non posso andare la. Allora, cerchiamo Kovalev tra le vittime. Fa venire veramente la tosse. Oh mio Dio. Ma faccio vedere fino a l'esamina. Una vittima. Allora. Allora, un'altra vittima. Il bello è che vediamola su. Ma cos'è roba virtuale questa? Un'altra vittima. Un'altra vittima. E' più grosso. Quindi lo dovrei trovare prima. Va bene. Allora. C'è una scala. Ma aveva dato esamina e ora non me lo dà più. Fa un po' impazzire su quelle cose. Allora, il giro l'abbiamo fatto. Questo? Eh ma insomma... C'è qualche prova risalente a prima dell'esplosione del bar? Bella domanda. Allora, quelle scale io non riuscivo a farle, no? Forse sì. Ok, qua non c'è nessuno. Vediamo se dall'alto vedo meglio. Nessuno qui. Scala qui. Qui c'è qualcuno. Con una pistola. C'è qualche prova risalente a prima dell'esplosione del bar? Ok. Quindi abbiamo abbandonato la ricerca. Dobbiamo trovare delle prove. Magari è ancora più difficile. Ma vi ha fatto vedere quella cosa in alto, che ora non c'è più. Lì c'è qualcosa. Ma cos'è? E come ci arrivo? Così. Allora, ricostruisci. Per trovare il giusto punto. che è qui. Oh. E quindi... Ok, un attimo. Questo. 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 una cassaforte la ricostruisci la serratura allora analizziamo qua la ricostruzione è partito da questo punto vicino alla cassaforte e ha perso un sacco di sangue vediamo di illuminare per bene tutto e non facciamo l'errore dell'altra volta ok qua c'è qualcosa e poi perché Kovalev sanguinava? bella domanda bella allora ricostruisco ehm sì beh scusa no non posso farlo così cosa è successo? è apparso Kovalev oh mio dio aspetta che mi sposto fammi passare c'è è più fisico che ok allora riproviamoci riproviamoci allora vai analizza arma di fuoco allora sì allora usa qua ci sono dei cavi sono cavi questi che portano che portano quassù l'attacco l'attacco è fuoco dalla stagione alcuni pensi su chi ha fatto la scuola? c'è un uomo morto qui che farà un sospetto decente allora non erano cavi era la traiettoria dei colpi ma pensate scatta foto un po' buia ah ecco è grande a giocare un uomo morto veramente in carattere quindi quindi ha fatto finta mmm avremmo scritta un'altra foto? no vero? no 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 direi di no per adesso allora chi ha sparato a Kovalev? bella domanda questo? io ho fatto la foto ah ecco allora ricostruiamo dunque dunque ok ce l'abbiamo fatta un attimo che mi sposto cavoli eh li hanno preso in testa eh ma chi è stato a sparare? che è stato a sparare? che è stato a sparare? chi? chi? who the fuck is Edmund Christo Basment? employed by Phalanx an elite private security company founded by someone called Miller ok ok spiritosello vai piano piano e adesso la pistola mi avessi volato il dito ok ok mi avessi volato il dito Kovalev bene domanda domanda cos'è non lo ha provoccato scusa cos'è non lo ha provoccato cos'è non lo ha provoccato scusa ma ci siamo fermati nel posto giusto? no questo è il posto giusto? un attimo ok vediamo edmund Christo Basment che nome allora intanto mi si è attivato qua ingignocchiati uff che una vera forma di morire si riprenderà? l'acqua è solo consumata la carne si può sempre comprare più di questo è vero per un uomo come questo il costo di un nuovo corpo non è più vero che pagare un pagamento va bene sono arrivato qui ma avevo qualcosa anche da guardare da queste parti allora abbiamo fermato ah beh sì sì qui 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 vediamo cosa è successo ma tu? è un'esplice ma che è un'esplice in un'esplice e un'esplice di Demmer fucking Demmer Ribs completely crushed Multiple minor injuries He's covered in some kind of flammable shit We found the same substance on Kovalev What does it look like to you? Something exploded right next to him Concussive force broke all his bones Intense heat set him on fire Shit The poor bastard really suffered Yeah, well, suffering's nothing new Especially for people who eat Demmer food Can you find the source of the explosion? As long as this shit glows under UV light, yeah, I think so All right Um, RADG-UV Ehm, un attimo Abbiamo detto RADG-UV No, ma... Ecco perché me lo toglie Usa la lampada Ok Solfato di ammonio Ma da dove viene? It's like the center of the blast was in this lounge Qui c'è stata l'esplosione Allora, ricostruisci Ma tu non riesco a girarmi Allora, andiamo con la ricostruzione Oh Ha stato un'esplosione terribilus Allora Time to check on Park's friends What was, huh? What'd you say? Nothing Just that we better get a move on Oui Martin Roy The owner of the New York Liberation Stadium? Shit He seemed like a decent guy You knew him? Nah, not really He shook my hand a few times in the old life That's all Oh, oh Ma guarda E tu da dove vieni fuori? Ha buttato a terra la sigaretta Ed è scappato Che cavolo al fazoletto Scarf Charpa I saw this pattern somewhere You know, from the photo? From a speed camera? Uh, it's a scarf But Yes, indeed Um Jane Salma had a similar one Similar? Identical Uh-huh But Uh, it's just a scarf Besides, there's There's no sign of Salma's presence No Not yet Raggi X Weird I can't read the icorite Non leggiamo l'icorite I just Can't access it Ma è stato preso anche lui dall'esplosione Ecco, sì Qui aveva questo orologio Che cos'è? Una cosa che lampeggia Un codice? Che cos'è? Expensive bodies Non usually have those Coulda'l been a recent purchase Maybe Just hadn't gotten around Or removing the serial number yet Huh Weird It's unregistered But The body was bought by Phalanx For Holy shit For 4 million bucks? Way too pricey For a bodyguard Sarah Meet Mr. Miller You think that's the owner of the company? Not only that. Arms dealer, smuggler. Don't bother looking in the system. You won't find anything. This asshole works for the government. Got some documents. I don't believe it. Do people like this always keep secret papers just lying around for anyone to see? It looks like the law in lowering the age of free subscription is just the beginning. What? They want to make it even lower? And add tons of taxes. I'd say it's a long-term plan. Have they gone fucking insane? They can't do that. Roy pianificava di distrarre la gente. Proviamo a dirgli questo. Roy was planning the games. Did you read about that? He wanted to distract the crowd. Miller was probably supposed to protect the rich. Someone sure fucked those plans up. Well, it just breaks my heart. I wouldn't say fucked up. Delayed, maybe. But you know sooner or later they'll resurface in new bodies. At least it ought to take them a while. Well, in any case, the longer the plan takes to get started, the better it'll be for the rest of us. Allora, volevano abbassare ancora di più l'età in cui si pagano i corpi. Allora, un attimo che voglio vedere un po' la scena. Ma quello laggiù? Vabbè. Numero del corpo? Ah beh, lo sapevamo già. Motherfuckers. Whoever blew them up may have had a point. You got that right. Allora, vediamo un po'. Allora, io credo a un incidente. Accidenti hanno fatto per le persone. È solo un buon successo. E' un buon successo che il suo successo era un po' peggio che il buon successo. Ricostruiamola. Allora, andiamo. Ma comunque stava sparando. Mannaggia, non sto vedendo nulla qua. Molto strano. Ecco cosa. Bisogna sempre allontanarsi un po'. Deve avere preso quota. In che senso? Qualcosa sul colno? Una gente. Allora, usciamo. Rientriamo. Allora, usciamo. Accordora! Uncroned. Yeah, this was definitely not an accident. Managgia. Ok, per terra qui. Eh, sì. UV. Ma da dove cavolo veniva? Ah, era su allora. Eccoti qui. C'erano preso il volo. Incredibile. Ah, l'hanno ferito gravemente la gamba. Qui c'era una valigetta tipo quella. Sento che trova qualcosa, ma non riesco a vedere. Oh, complicata questa faccenda. Cosa? Sì, sì. Esatto qua. Allora, foto... Vai. Ok. 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 Interessante. Ma non... Ok. 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 le lounges in the swiss cheese into what people used to talk like that I heard in some movies you're a movie buff ok madò la cavitazione del proiettile they sat there in the lounge all cloak and dagger and hush tones until the spray of bullets caught them flat-footed è attivo qua allora si sono accorti comunque a ver il rumore del sparo si bueno colpito lui he managed to scram agile body fast reaction time grade B maybe even a where did he get the money for that the bullet turned his brain to mush it'll take years to reconstruct a zikorite James can you get into the suitcase eh quella paligia lì si mi fa un po' gola eh ok lock works let's see at least we know where he got the money for that hot rod body ma che roba strana riusciamo a aprire una valigia in questa maniera allora 1 nooo why don't we report him to the chief what do you think ah no or permute il 2 i mean yes at some point but this ban on entering icarus the agent's corpse inside and those documents you found at green's place one day with me and you're already doubting the department no not so much a doubt as i want to put everything together first i'm so proud of you i don't think we'll get any more out of the swiss cheese how can we connect it all allora filologico qui la traiettoria dei proiettili o gli esplosivi la traiettoria dei proiettili ci sono tracce nel bar ho due sbagliato allora tutto si sistema mentre passo e ti devi togliere come faccio se ci sei te eh si come no come no no niente ok da qua da qua che ti venga un colerov ma guardate mi tocca fare il giro ma è veramente strana sta cosa guardate il bancone che forte il pavimento ok allora Green si è rivoltato contro i suoi uomini e pare di sì cosa è strana it started with Kovalev first he served a cocktail he'd ripped up himself he treated the next guest with a hail of bullets and finally earned a bullet himself from Oscar Winno Edmundo Kovalev Kovalev gave as good as he got in the end he finished off the crooked UC it's all just so unnecessary necessary or not in the end the neon got him he got hit hard we're lucky un attimo prima proviamo così se a tutto questo l'avevamo già visto ok arrivo 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 Eccola qui. 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 Sangue di color. Ecco. Ma adesso un po' ci siamo. Allora lui era qui, era al banco, dentro. Ok era lì. Stiamo tornando bene indietro nel tempo. Ok. C'era anche un'entrata qua, vero? Cioè era pieno di dinamite. Ma pieno. C'era un po' di più. C'era un po' di più. Ma questione. Corvalev... Corvalev... I shot a few times, and kept going. The reconstruction's complete. Get the safe. Colpito. Dalla. Ecco l'esplosione. It's the termination. Why did he want to blow himself up here? You already have all the data. Open the fucking safe before it all collapses. Roger that. Se la trovo. Non so più dov'è. Dov'è finita. Mannaggia. Dov'è la cassaforte? Eccola. No. E' fantasia. Ma dov'è cavolo è finita? Allora aspetta, proviamo a muovere un po'. The safe should work again. Ok. Chissà dov'era volata. Che non la trovavo. Guarda dentro. Bello. Bello. Prendo la bottiglia. Influisco sulla trana. No, non prendilo. No, non prendilo. e non prendilo. No, non prendilo. The fucking bartender want to blow himself up in this particular place. What was he hoping to accomplish? What the fuck? Sarah, are you there? Who would've thought that the fly that was buzzing over Green's corpse would get stuck on Icarus? Who can't find a window to fly out of? Si. Uh. Um. I had a feeling someone else was behind this. Thanks for confirming. I wouldn't pat myself on the back just yet. Instead of this, buzz yourself around the ripest corpse. The one you missed. You'll need to be more precise. There are several corpses here. Close to Kovalev. Close enough to take him out with an explosion. The net the bastard was trying to trap me in. I had to act fast. Looks like a big wig. Did you find him? What kind of shape is he in? Dead? Just a temporary state for big wigs like him. Unfortunately. Che ti ha fatto, Green? I'm betting Green is on your shit list too, huh? We don't have to worry about it anymore, do we? Let's focus on the one at your feet. Do you recognize him? Wait a minute. George Boyle, CDC director from the rotten family that invented the Icarite. His signature was on the documents from the lounge. He and the others found a way to strip the poor of their bodies to pad the pockets of rich assholes. He's just another dead asshole to me. What do you want? You have a unique chance to get justice. Desynchronize him. Buy some time for the poor people. How? This is just his corpse. It's cold. The guy no longer feels anything. Shoot him through his Icarite. He'll throw in his new body. And more importantly, he won't introduce more body taxes so soon. It will take months, maybe years, before he gets back on his feet. You gave time to people who really need it. Ma lo dobbiamo fare? Io sparo. You deserved it, motherfucker. I was, I was, I was, I was, I was, I was, I was. Good. Very good. Good boy. What? What have I done? James, can you hear me? It's about to go down. You've got to get out. Oh, 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 oh. Allora, chiaramente sarebbe bello capire cosa sarebbe successo se non avessimo sparato Ok, allora continueremo la nostra avventura nel prossimo episodio, mi domando cosa sarebbe successo se non avessimo per così dire ucciso veramente Green, no come si chiamava, non mi ricordo più. Sarebbe bello veramente capire cosa cambia nella storia ma lo vedremo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, grazie per averci scelto, alla prossima.